buongiorno ragazze allora scusate la voce e tutto quanto mi sono appena svegliata e oggi si parte per l'altra oggi si parte aspettate che scendo le scane praticamente come sapete io parto da sola, cioè per chi non lo sa ve lo ripeto quindi sarà una giornata abbastanza eccitante non so cosa aspettarmi perché neanche l'anno corto quindi niente io allora cercherò di girare il più possibile come ho fatto l'anno scorso faccio dei piccoli spezzettoni poi vi monto tutto insieme perché fare ogni giornata primo non avrei proprio le cose per girare cioè nel senso che mi porto solo il telefono e giro con questo quindi ho cercato di liberare la memoria per quanto mi era possibile e innanzi ecco guandine la cucina tra l'altro ieri mi sono piastrate i capelli non immaginate ieri facevo un caldo bestiale io a piastrare i miei capelli stamattina li devo un attimo ripassare perché questa parte è perfetta stranamente e questa è un po' perché ci ho dormito sopra quindi adesso colazione con il soreale vi faccio vedere anche se mi scordo sempre di registrare questo e niente poi andiamo cioè andiamo io ho l'aereo a a luna a luna tipo in mezza e devo stare lì alle 11 qualcosa del genere cioè dovrei starci anche un po' prima teoricamente però vabbè alle 11 ho più che pa visto che mio padre salta al lavoro per portarmi quindi yes allora ragazzi sono per montare mi sono anche ripassata la piastra perché erano stra gonfi niente questo è il mio outfit of the the day no vabbè mi sono dovuta mettere le dottor martens perché le valigie sono appesano troppo questo è il mio calcolo comunque non niente di che c'è questi jeans soliti quelli del concerto tra l'altro e le dottor martens sono queste qua a bordeaux non riesco mai a farvi vedere le scarpe così queste la valigia è qui la devo finire di chiudere bla 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 tra l'altro nel mio bagaglio a mano che è questo quel piccolino c'è solamente la reflex e pesa quasi 5 kg cioè il limite che io porto nel bagaglio a mano quindi sono abbastanza preoccupata penso che noi ci rimedremo direttamente in aeroporto allora ragazzi ecco la camera già con l'esplosione e comunque adesso vi racconto questo è il letto che dall'altro mi viene da con me questo sono io ok poi appunto ci sono anche i mondini che sono importanti c'è la valigia fuori c'è il tavolino proprio un po' cioè questa è la finestra grande però allora ci vediamo poi di qua così specchio questo sarebbe l'armadio senza stampelle qui c'è il bagaglio beh ci metto il cestino perché se no non è giro e niente allora allora ragazzi mi scuso se non mi vedete però fidatevi che sono qua allora sto per andare a dormire ho scoperto col wifi in camera quindi sono strafelice però oggi non poterò andare a dormire perché è stata una giornata abbastanza dura come avete visto c'è un pezzettino oggi siamo andati in giro e vabbè quando tornerò a Roma vi faccio vedere cosa ho preso e piccola anteprima ho preso queste vans qua si si vedono molto questa era l'anteprima e no allora io vi devo spiegare una cosa visto che ho dei problemi a stare qua e dovete sapere che io cioè quando vi ho parlato di venire a Londra vi ho tralasciato una parte cioè io non ci volevo venire qua perché questo in questo periodo non sono dell'umore di fare amicizia con nessuno perché è successo vabbè una cosa che io non non posso dire perché non riguarda solo me se fossi per me ve l'avevo già detto però sono convolta un po' di persone e quindi non posso spiegarvi comunque non sto cioè emotivamente non sto molto stabile e quindi io non volevo venire quindi io sono venuta qua ho fatto amicizia e tutto quanto poi ho lasciato perdere perché non riuscivo proprio a stare concentrata sulle amicizie qua e molte su ask su facebook me lo stanno chiedendo non è perché non ho trovato amici ma è semplicemente per questa cosa qua cioè se non avessi trovato amici cioè è proprio un'atmosfera che mi si è creata che non mi piace e io ripeto non sono tipo da fare queste cose anzi io ero entusiasta a mille proprio per questa vacanza però non riesco e comunque io adesso vado a dormire e noi magari ci vediamo un altro giorno non so io ogni tanto riprendo quando posso quindi adesso vado buonanotte ciao buongiorno ragazzi allora stasera ho dormito malissimo si vede perché ho il naso gonfio quando io dormo male ho il naso gonfio comunque oddio doppio sospiro e nulla allora sto mi devo preparare ecco stamattina posso far vedere ma io le manzo e oggi abbiamo la giornata di sport che io non farò cioè non possono obbligarmi se non voglio e e e poi il pomeriggio abbiamo due ore di scuola che ve lo dico a fare non vedo l'ora di andarmene e niente that's all allora ragazzi come avete visto un'altra giornata è finita è sempre peggio che ve lo dico a fare come si può vedere mi sono struccata oggi è stato abbastanza pesante quindi mi scuso per la faccia strasfattissima e domani andiamo mi salmo ad amtusso domani pomeriggio perché la mattina abbiamo la scuola quindi non la riprendo tra l'altro oggi stamattina più che adesso spostando la valigia perché non l'avevo vista cioè non avevo visto che era aperta per riprenderla da sotto mi si è praticamente tolta tutta sta parte di gel perché l'ho spregata sul muro e che è tipo carta vitrata quindi comunque io ora vado a dormire metto questa inquadratura così così non vi spaventate e niente sì a dormire ci vediamo domani ci vediamo domani non vi ricordo qualche cosa so è vero 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 E non voglio, non voglio Cosa si farà? Cosa è che gioco? Questa è sempre la mia parte preferita Allora, siamo qua al museo Siamo a Oxford oggi, quindi niente Allora, siamo qua A Oxford, ve l'ho detto prima Oddio Irrubile In pratica stamattina Io sarei dovuta essere sotto all'incontro Con il nostro, vabbè, con il gruppo nostro E alle 7.20 Non mi è suonata la sveglia Perché io L'ho messa soltanto per i giorni Lavorativi Quindi lunedì, martedì, mercoledì Vabbè, fino a venerdì Oggi è sabato Quindi non mi è suonata Per fortuna qualcuno mi ha bussato la porta E alle 7.10 mi sono alzata di botto Ho chiesto loro, ho fatto caldo Infatti mi sono messa i vestiti di ieri Allora, vado qua giù che non ci sono ancora andata Ah, vado un'attima la lascia Allora, vado qua giù che non ci sono ancora andata Ah, vado un'attima la lascia Anche se ho speso quasi tutto Perché ho comprato le manzo, lo sapete Aspettate Questo E qui ho fatto tutti i regali Anche a mio padre stavolta Quindi ho finito tutto E non tutto sta bene Allora ragazzi, ho anche incontrato Due mie amiche praticamente Cioè stanno a Roma, tranquillissime E ho incontrato qua Come strana la vita Ho incontrato anche tre di voi Quindi è figo E' figo No, ho detto che è in grubblica un po' Cioè si divertendo Lì c'è quella del capone al strano Ma è incavolato però molto Qui fuori, che carino con le occhi Allora ragazzi Stiamo qua in giro di nuovo al centro Oggi è un altro giorno Oggi ho portato anche le Rolex Le mie scarpe ci sono Anche se mi sono tagliata un pazzo il dito Perché non via mi ci sbaccio È una cosa assurda Adesso andiamo in questo supermercato Che si chiama Sainsbury's E io dovevo vedere cosa c'è dentro E io ci vedo le passaggi a dentro C'è lì Che vedi le passaggi a dentro Andiamo a riporto dolci. Ecco. Sono buonissimi. Ovviamente di qua. C'è tutta la parte cioccolata. Allora ragazzi, come avete visto oggi siamo... Allora, stamattina siamo andate... Siamo andate. Siamo andati a Windsor Castle. Che è la residenza estiva della regina. E in realtà c'era anche lei dentro al castello. Però noi naturalmente non è che abbiamo visitato la sua parte. Noi abbiamo visitato la parte quella del museo. Insomma, dei visitatori. Ora, sono seduta per terra perché fa un caldo micidiale. Infatti ora mi tolgo anche la maglia. Però volevo registrarvelo prima di togliermi la maglia. Ho aperto un po'... Cioè, in realtà quella finestrella lì è sempre aperta. Perché fa troppo caldo. Cioè io, tu, vai a Londra e pensi che si sta freschi. Invece il fresco sta solo verso le sette e mezza. Dopo le sette e mezza. Cioè comincia a fare un caldo che poi neanche immaginate. Ecco, non c'è anche bisogno che arriva stasera. Ve lo faccio sentire adesso. Non lo sa fanno. Non lo sa fanno. Non lo sa fanno. Grazie a tutti Grazie a tutti